Un pastore inglese diceva una sera al suo assistente della sua chiesa. Hai notato quel vecchio malvestito che ogni giorno, verso mezzogiorno, entra in chiesa e ne esce quasi subito? Lo sto sorvegliando dalla finestra del presbiterio. Questo mi preoccupa un po', perché nella chiesa ci sono oggetti di valore. Vedi, di investigare. Dal giorno seguente l'assistente del pastore attese il nostro visitatore e l'avvordò. Amico mio, come mai vieni ogni giorno a questa ora in chiesa? Vengo a pregare, disse con calma l'uomo anziano. Ma tu non rimani abbastanza a lungo per pregare. Non fai altro che andare fino all'altare e poi torni indietro. È vero, rispose il povero vecchio. Io non conosco le preghiere, non so fare una preghiera lunga, c'ho anche poca memoria. E allora vengo ogni giorno e gli dico semplicemente, salve Gesù, sono Jim. È una preghiera breve, ma so che Gesù mi ascolta. Poco tempo dopo, il vecchio Jim fu seriamente investito da un camion. Venne ricoverato all'ospedale. Lei ha sempre un'aria così felice, nonostante le sue disgrazie, gli disse un giorno un'infermiera. Come non lo dovrei essere? Sa, è a causa del mio visitatore. Il suo visitatore? Riprese l'infermiera stupita. Ma non lo vedo mai. E quando viene? Tutti i giorni a mezzogiorno. Rimane qui ai piedi del mio letto e mi dice, Salve Jim, sono Gesù. Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò e cenerò con Lui ed Elghi con me. Apocalisse 3.20 Avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi. Era Giacomo 4.8 Alleluia. Grazie, Signore. Amati fratelli. Grazie, Signore, bellissimo. Mietiamo per come seminiamo. Forse anche in punto di morte, credo che ce ne andremo per come abbiamo vissuto. Il profeta Elia ci diede un esempio di quello che Gesù disse. Andiamo a Giovanni 11, per favore. Sì. Verso 25 e 26. Giovanni 11, 25. Gesù le disse, Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo. Giovanni 11, 25 e 26. E anche Giovanni 5, per favore. Giovanni 5. In verità, in verità, vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24. Bellissimo. Il profeta Elia fu rapito in cielo da un carro di fuoco. È un esempio che chi crede non muore mai. Sì, ma lui è stato l'unico e tanti altri hanno creduto. Sì, sì, e lui è stato un'eccezione, insomma, perché Dio l'ha voluto usare per dare un esempio. Cioè non è che dobbiamo spottare un carro di fuoco, possiamo andare in altri modi. No, Dio fa sempre quello che abbiamo bisogno per imparare. Lì è stato un esempio di questo. Sì. E allora, come il vecchio gym, viene il tempo per tutti noi di affrontare difficoltà e abbiamo bisogno di un amico. Non ne possiamo fare a meno. Un amico che viva nel mondo di sopra, che è Gesù. E allora che faremo, fratellini? Amen. Ci appoggeremo sul dente rotto, il piede slogato di questo mondo, o sulla roccia di Gesù. Amen. Sai una cosa che tu spesso hai detto e che ho meditato diverse volte. Hai detto che la relazione che ho io con Gesù adesso, qui sulla terra, è lo stesso che avrò nel cielo, quando lo vedrò faccia a faccia. Se qui sono lontana da Lui, lì sarò lontana. Se qui sono vicina, tutto dipende da cosa faccio qui. Perché nel cielo non sarò più spirituale, più vicino a Gesù, se qui sono lontana. È la legge della... Semina e raccolta. Raccoglie quello che semini. È la legge di Dio. Non puoi seminare immondizia e volere raccogliere balla frutta. Sì. E se semini anche il contadino che è l'azzarone, non ha tempo per innaffiare. Non ha tempo per l'erbace e quel contadino andrà in fallimento. E così si applica in tutte le aree della nostra vita. Comunque il regno di Dio è già iniziato. Nel nostro cuore di figli di Dio, nati di nuovo e salvati. E allora, perché aspettare? Aspettare fino a che siamo in cielo per cominciare a vivere come gli angeli di Dio. Perché aspettare? Amen. Perché? Nel nostro cuore siamo già nati di nuovo, abbiamo già una nuova persona spirituale, siamo uomini nuovi, quindi angeli. Perché aspettare a vivere come angeli? Perché dobbiamo vivere come il mondo, triste, salvatico, salvaggio, egoista, sempre lamentarsi dal governo, di questo, di quello. Il governo certamente potremmo anche lamentarsi, ma che cosa c'è da guadagnare a lamentarsi? E allora perché dobbiamo aspettare che arriviamo in cielo? Viviamo adesso come angeli. Adesso i poveri, i bisognosi nello spirito hanno bisogno di noi. E adesso che le anime vanno in perdizione. Oggi è il tempo del risveglio per il quale abbiamo pregato ieri. Grazie, Signore. Amen. Una scrittura. Andiamo a Romani 13, 11 a 14. Eccolo qui, guarda. Comunque, puoi aprirla? Sì. Ecco. E allora comincia così. Questo dobbiamo fare conci del momento cruciale. E ora, ormai, che vi svegliate dal sonno. Perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata. Il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Verso 13. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Romani 13, 11 a 14. Una cosa che mi ha impressionato dal carattere di Jim è che una persona così semplice non era eloquente. Si accontenta. Era molto semplice e aveva una relazione con Gesù così semplice. L'unica preghiera che sapeva è Ciao Gesù, sono Jim, sono qui, sono venuto. Salve Gesù. Così semplice. Non è che devi essere super intelligente, super talentato, devi avere doni, sapere tante cose. essere solo semplice però dal cuore. Umile. Da tutto il cuore e funziona. Per Gesù è sufficiente. Tutto il cuore. Quello che sei, sei, però tutto il cuore. Possiamo essere un raggio di luce per tutti intorno a noi che conosciamo e che non conosciamo. Abbiamo la responsabilità di irradiare, di ispirare chiunque sia vicino a noi, che conosciamo e che non conosciamo. Dobbiamo lasciare un'impronta, un'impressione nelle persone. Molte mi ricordavamo questo ospedale e stavamo andando distanza in stanza evangelizzando. E c'era una signora lì triste, battuta sul letto. Ci siamo avvicinati e mi permette che siamo missionari, stiamo salutando poi gli amici. Vogliamo solo dirle che Dio la benedica. Sì, sì, mi dica, mi dica. E si era ravvivata un po'. E poi si è guardata intorno. Avevamo tutti i figli, avevamo sei figli lì. Mi pare che almeno cinque ce n'erano. Quattro o cinque c'erano. Mi pare un cinque. E lei si è fermata e ha guardato. Dice, ma che occhi che avete? Che occhi, com'è? Cioè, siamo tutti salvati, tutti abbiamo Gesù. E quando uno ti guarda negli occhi devi vedere Gesù, se no hai fallito. Sì, sì, sì. E non mi posso dimenticare come questa signora si era ravvivata ed è rimasta scioccata per lo sguardo negli occhi. Quando guardi una persona, fratello, i tuoi occhi devono parlare. Devono dire, ti amo. devono dire, Gesù ti ama. Poi lo devi anche scandire. Perché la gente vuol pensare che, oh, chissà che religioni sono queste. E allora devi scandire Gesù. Devi dire qualcosa. Il nome di Gesù deve essere menzionato. Che diavoli non hanno paura di nient'altro. Va bene? E allora quando evangelizzate, fratelli, ricordatevi degli occhi. una persona può essere la più bella di Hollywood, il vestiario più alla franze, alla scala di Milano. ma gli attori hanno gli occhi bellissimi, ma sono pagati, fanno finta. Amano qualunque uomo, qualunque donna, baciano tutto e tutti. E sembrano che sono follemente innamorati di quella... Ma prende un milione di dollari però. E cambiano il tipo ogni film. Sì, è vero, sì. Invece noi, fratelli, siamo pazzamente innamorati di Gesù. Di Gesù. Ameno. E quando evangelizzate, fratelli, fategli vedere i vostri occhi. Ameno. Come si fa? Grazie, Signore. Guardateli fissi con un sorriso, la pace nel cuore. E non se ne dimenticheranno mai, posso raccontarvi avvenimenti che sono capitati a me. Di persone che dopo anni mi parlavano della prima esperienza, della prima testimonianza che avevano ricevuta, in questo caso da noi, può essere chiunque. Gloria a Dio. Ameno. Gesù ha detto se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo è dalla cattiveria. Se il tuo occhio è nella luce, tutto il tuo corpo è nella luce. Ha detto Gesù, la lampada del corpo è l'occhio. Gli occhi, fratelli, sì, possiamo essere ipocriti e far finta, ma non è che puoi resistere. Ti scoprono. Ti scoprono. Infatti, la prima cosa che guardano le persone sono gli occhi. Dagli occhi, vedi se sono posseduti da spirito del diavolo, se sono pieni dello Spirito Santo, se hanno uno spirito di amore, di umiltà, di onestà, che il sorriso è facile fincerlo, è stretto di mano, però l'occhio è più difficile. Anche lì possono fare finta, però se guardi bene, a volte vedi queste fotomodelle, donne in bichini davanti ai supermercati, grandi sorrisi, però se la guardi negli occhi, se la guardi negli occhi, vedi la cattiveria, vedi la gentilezza, vedi la pace, di solito nella maggioranza dei casi vedi una finta, però ci sono anche, anche lì ci sono le pecorelle. Guardate gli occhi, fratelli, e assicuriamoci che quando noi guardiamo le pecorelle andiamo a generalizzare, di guardarli in un modo rilassato, non fissateli come che si spaventano. E lo sguardo deve essere rilassato. E l'occhio può sorridere anche senza che le tue labbra sorridano. Puoi sorridere con gli occhi. Io vi benedica, fratelli. Amen, grazie. Vi vogliamo bene. Un abbraccio. Fratelli, un abbraccio forte, forte, vi amiamo. Ciao a tutti, ciao.